B maschile. Il girone D della terza serie nazionale conta una formazione cittadina, la Grandi Turris Pisa, e una dell'immediato Interland, la Peimar VBC Calci. Si tratta delle due assolute regine della serie C maschile 2016-17. La compagine bianco-verde è approdata in B vincendo la doppia sfida finale proprio con i cugini calcesani, questi ultimi hanno inteso coronare le rinnovate ambizioni e la profonda ristrutturazione di tutta la società rilevando il titolo sportivo. Tanti acquisti per i blu celesti, con ventre atleti provenienti da fuori regione, Mazzotta, Nicotra, Peschiulli, e due abituè della categoria come Andreotti e Grassini. La Grandi ha cambiato molto meno e punta sul blocco storico che le ha permesso di vincere il campionato dopo tantissimi anni. Le mie entri sono la vecchia conoscenza Paolo Possenti, il libero Odo e l'opposto Gentile. Nella giornata di debutto, bianco-verdi di scena al Palacep contro una vecchia conoscenza della terza serie come lo Stadium Mirandola, formazione modenese sempre competitiva. Emilia terra di grande volley, da lì proviene Mirandola, e lì deve recarsi la Peimar VBC, messa di fronte ad un altro nome storico come Ama San Martino in Rio, provincia reggiana. Entrambe le squadre partono con l'obiettivo della salvezza, per cui muovere subito la classifica sarebbe a dir poco fondamentale.